Ciao a tutti, sono Marco Genovesi, vi voglio presentare la nuova gamma di galleggianti Airflot 17 dell'azienda Tubertini. Questa gamma è stata studiata appositamente per la pesca in acque poco profonde o la pesca galla con la rubasiana. Ha una forma a goccia rovesciata, anello guida filo, non ha il filo passante, deriva in carbonio e antenna cava da 1,7 mm. Le proporzioni tra antenna e deriva consentono a questo galleggiante un entrato in pesca e una stabilità in pesca perfette. Questa forma, che personalmente è la mia preferita quando devo pescare a galla, ci consente qualsiasi forma di richiamo, quindi di accompagnare, richiamare la lenza e farla rientrare in pesca, sempre facendola saltare. Anche se il richiamo ideale per questo tipo di galleggiante è un richiamo un po' più lungo, quindi un'alzata un po' più alta. Come dicevo, questa tipologia di galleggiante, di segnalatore, si presta un po' a tutte le tipologie di pesca, soprattutto alcavedano. Quindi anche nei fiumi torrentisti, fiumi appenninici, sicuramente è ideale, anche nelle grammature piccole, questo segnalatore è disponibile dallo 0,05 allo 0,50, quindi copre tutte le esigenze di questa tipologia di pesca. Grazie a tutti, ciao! Grazie 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 a tutti.